i visiti gli abitanti diversi come sono qua all'epoca leopardiana abbiamo molto molto i familiari che erano venuti per andare a Sud-Pranzo per i bombardamenti per andare a Rikalasse 160-180 180-180 ma dove 135-140 mila adesso con 60 sai come tu tutti ti sono ragione ma ho presenze è una persona che si è presente purissima persona come te che si sono anche una roba che la cosiddetta cos'è bene? lui quella è la giusta l'ego Cantiano in un modo soffermarsi un saluto al vostro professore ciao ah no è brava ha già preso la sartina che ti aveva preso al collo che gli ha fatto il regalo per la barba